800 APS presenta Mazzini fa stampare i volantini di Samuele Graziani questa volta la direttrice non ci pubblica ci sega l'articolo è stato questo il primo pensiero quando abbiamo scoperto che J32 tra gli addetti ai lavori lo chiamiamo così sarebbe stato monografico su Mazzini Mazzini è uno sfigato non riusciremo mai a scrivere un articolo senza esprimere esplicitamente questo nostro pensiero ma alludendovi solo facendola appena trasparire e a lei Mazzini piace tanto? no, niente a questo giro non ci sarà un articolo a nome nostro proviamoci comunque tentare non nuoce siamo nel 1831 a Marsiglia Mazzini, come ormai avete letto nella metà degli altri articoli fonda la Giovine Italia un'associazione politica insurrezionale l'esperienza precedente è la carboneria che pochi anni prima ha miseramente fallito Mazzini ha ben chiaro il motivo del fallimento la carboneria è una società segreta troppo segreta mal organizzata mal gestita mal diffusa quando arriva il momento di insorgere non ci sono abbastanza adepti per poterlo fare con successo nello stesso atto di fondazione della Giovine Italia Mazzini esplicita che la partecipazione deve essere il più ampia possibile la Giovine Italia è segreta ma non troppo sono segreti i suoi aderenti e ricordiamoci che si tratta comunque di un'associazione illegale ma non sono segreti i suoi scopi i suoi programmi Mazzini ha già capito in anticipo sui tempi la forza della pubblicità e così Mazzini fa pubblicità stampa una rivista stampa volantini per la rivista ha un lampo di genio la rivista, il giornale, l'organo ufficiale della Giovine Italia si chiama La Giovine Italia quella fa la differenza in tre anni escono sei numeri e lo ripetiamo in tre anni escono sei numeri dai J32 è il trentaduesimo numero giurdelo 1 Mazzini 0 poi però ci sono i volantini aspetto importante all'epoca giravano testi clandestini stampati da tipografie compiacenti e Mazzini capisce l'efficacia del meccanismo attenzione che clandestino o illegale al tempo significava che se venivi beccato finivi in carcere nella migliore delle ipotesi e finalmente possiamo abbandonare il pro de Mazzini che stimiamo moltissimo perché è stata detta la parolina magica che ci introduce al reale argomento di questa breve trattazione no, la parola non è compiacenti è tipografie la stampa è una delle prime produzioni in serie grazie a Johannes Gutenberg nasce la stampa caratteri mobili siamo nel 1455 fino a lì c'erano i manoscritti i libri venivano ricopiati a mano e le xilografie nella xilografia una tavoletta di legno viene incisa e quindi inchiostrata e usata per stampare con un torchio la tavoletta o matrice si deteriora rapidamente e non può essere riutilizzata nella stampa caratteri mobili si creano invece delle formelle di metallo separate per ogni lettera i tipi che vengono allineati per comporre le parole e le pagine i tipi possono essere riutilizzati per comporre nuove parole e nuove pagine ed essendo in metallo si deteriorano molto più lentamente del legno le stampe fatte con questa tecnica fra il 1455 e il 1500 prendono il nome di incunaboli si stima che le oltre 500 tipografie europee in quei 50 anni scarsi produssero circa 10 milioni di copie l'Italia ed in particolare la ricca e colta Venezia sono il maggior centro di produzione nel 1501 Aldo Pio Manuzio pubblica il primo libro tascabile Manuzio è uno studioso coltissimo che dopo aver viaggiato si stabilisce a Venezia e diventa editore oltre all'invenzione del formato tascabile con stampa in ottavo in cui il foglio viene piegato ricavando 16 pagine a lui si deve la numerazione delle pagine l'invenzione del carattere corsivo disegnato per la prima volta dal bolognese Francesco Griffo e in sostanza la definizione della punteggiatura così come la utilizziamo oggi con l'invenzione del punto e virgola dai primi incunaboli che imitano i manoscritti l'evoluzione della tipografia va progressivamente nella direzione della fruibilità e della diffusione dei libri i caratteri diventano più piccoli aumenta la spaziatura tra le righe si va verso la leggibilità e il formato delle pagine diventa più pratico nei due secoli successivi la tipografia si diffonde in tutto il mondo diventa un'industria fiorente grazie agli eruditi che vi si dedicano grazie alla tecnologia si possono creare caratteri sempre più sottili e raffinati ispirati a proporzioni matematiche non possiamo non citare Giovanni Battista Bodoni che ci lascia in eredità il manuale tipografico stampato postumo dalla moglie nel 1818 nel quale vengono dettate le regole estetiche che tutt'oggi sono in vigore nella tipografia moderna ovviamente i progressi più significativi avvengono con la rivoluzione industriale dell'ottocento ad inizio secolo la stampa viene ancora compressa in legno sul modello di Gutenberg seppur con tutti gli accorgimenti estetici e tecnici citati poi arriva la macchina a vapore che dopo essersi sviluppata in tutto il settecento è pronta per l'uso industriale grazie ad essa la tipografia fiorisce riuscendo a soddisfare una richiesta sempre maggiore di carta stampata la carta stessa evolve l'inizio dell'ottocento è anche il periodo in cui si ha una diffusione del quotidiano inteso così come lo si intende oggi grazie al Times e proprio il Times nel 1814 chiama a Londra l'inventore tedesco Fredrik König per perfezionare la sua invenzione di pressa a vapore dopo alcuni mesi il 29 novembre esce la prima copia del Times stampata a vapore la cosa non è da poco le 3-4 mila copie che per la stampa a mano richiedevano svariate ore vengono decuplicate con risparmio di tempo i numeri del Times sono impressionanti nel 1847 viene chiamato l'inglese Augustus Appelgath che realizza una pressa rotativa simile a quella dell'americano Richard Marge O e nel 1860 arriva la rotativa Walter 60.000 copie al giorno insomma nella seconda metà dell'ottocento la tipografia è totalmente matura carta continua stampa rotativa stereotipia stampa offset portano la tiratura a 120.000 copie l'ora nel 1890 il Times ha una tiratura giornaliera di 300.000 copie come è facile pensare la diffusione della stampa non è solamente propria di questi colossi come il Times di Londra o il New York Times la tecnologia permette a tanti piccoli editori tipografi artigiani di produrre agevolmente carta stampata e così è facile capire che un mazzini qualunque trovi un amico un simpatizzante un fedele qualunque che gli stampi copie del suo manifesto programmatico se guardate il documento riprodotto nell'articolo di proprietà del Museo Civico del Risorgimento di Bologna sembra una lettera scritta a mano ma in realtà non lo è è una stampa a questa carrellata sulla storia della tipografia vorremmo però aggiungere un focus su una macchina del periodo anche se ragionevolmente non è mai stata usata dal Gagliardo Mazzini la macchina da scrivere la prima immagine che si forma in mente con quelle tre parole è quasi certamente la lettera 22 della Olivetti e a qualche nostalgico sicuramente scende una lacrimuccia anche se la Razio dà ovviamente ragione alla sua scomparsa in favore del computer ma la macchina da scrivere risale all'ottocento tralasciando la prima cinquantina di tentativi a partire dalla Venezia del 1575 nei due secoli a venire la prima ingegnosissima invenzione è del 1802 ad opera del conte Agostino Fantoni che realizza una macchina per scopi umanitari cercare di aiutare la sorella ceca pochissimi anni dopo nel 1806 Pellegrino Turri perfeziona la macchina del suo amico e inventa la carta carbone con cui la macchina funziona della macchina Fantoni Turri non è arrivato a noi nessun esemplare sono però conservate a Reggio Emilia alcune lettere da essa prodotte e sembrano davvero fatte con una macchina moderna nel 1827 Pietro Conti realizza e presenta all'Accademia delle Scienze di Francia il tacheografo un prototipo che va citato per onore di cronaca ma che non ha applicazioni pratiche se non quella di essere ispirazione al successivo nel 1837 l'avvocato Giuseppe Ravizza progetta il cembalo scrivano ossia macchina tasti utilizzando tasti di pianoforte lo costruisce nel 1846 lo brevetta nel 1855 questo è quello che è ufficialmente considerato il primo modello di macchina da scrivere ha una tastiera a 32 caratteri il nastro inchiostratore il campanellino di fine riga e la distanza di interlinea variabile è geniale Ravizza in tutta la sua vita ne costruisce una quindicina di modelli quasi tutti tranne l'ultimo hanno un difetto il foglio è posizionato orizzontalmente quindi non si vede quanto si sta scrivendo la stampa si vede solo alla fine probabilmente questo limite fa sì che non venga riconosciuta l'importanza dell'oggetto Ravizza partecipa a svariate esposizioni ottenendo molteplici medaglie ma nulla di più nessuno ne vede un possibile uso pratico che possa essere remunerativo e quindi nessuno ne finanzia una produzione in serie chi capisce il potenziale della macchina di Ravizza è il giornalista americano Christopher Letham Scholes dopo aver visto a Londra un esemplare di tacheografo con l'aiuto dello stampatore Samuel W. Scholl e del meccanico Carlos S. Glidden inizia a lavorare a un proprio esemplare migliorando la disposizione dei tasti diminuendo nell'attrito modificando nell'ordine di modo che si possa utilizzare facilmente senza guardare i tasti e con l'uso delle dieci dita la tastiera QWERTY la tastiera che utilizziamo ancora oggi dopo alcuni tentativi falliti la macchina viene rilevata dalla Remington Ensons che dopo alcune migliorie emette sul mercato la Remington Number One la prima macchina da scrivere prodotta su larga scala era il primo luglio 1874 da lì sappiamo che cosa è diventata la macchina da scrivere da lì alla Olivetti il passo è breve vogliamo però chiudere l'articolo osservandone un risvolto sociale non da poco la figlia di Scholz già da bambina aveva imparato a scrivere sulle macchine del padre sotto dettatura diventando di fatto la prima dattilografa della storia il primo corso di dattilografia fu tenuto in America nel 1881 per otto allieve che superarono tutte brillantemente l'esame finale nel 1910 si calcola che oltre l'80% dei dattilografi professionisti fosse donna nel 1890 prima di morire Scholz dichiarò sento di aver fatto qualche cosa per le donne che hanno sempre dovuto lavorare così duramente la macchina per scrivere permetterà loro di guadagnarsi da vivere più facilmente la macchina da scrivere favorì enormemente l'ingresso nel mondo del lavoro del sesso debole la macchina da scrivere è stata un volano per l'emancipazione femminile Mazzini fa stampare i volantini di Samuele Graziani tratto da Giordelot numero 32 maggio 2022 letto da Samuele Graziani di Samuele Graziani